dove stavo prima o che vogliamo fa capito palo se ho capito perché ti ritrovi nella città principale di fare una raccolta mi sei andato alla luce per quello di staccato allora il emanuele sta al punto di viaggio città principale paolo dove cazzo stai tu o perché sono si può riandar qualche o andiamo a fare quello io dovrei entrare portale che mi hanno troppo fatica possiamo andare fa i teschi in tutti insieme e c'è anche arlo quello arbore c'è una merda adesso d'angelo vedo solo quello nel frattempo mi riapola la mappa per i cristalli ma giudino risponde si sta a fare seghe a moro la cinghia schiuso gruppo andare che tutti i sender su ci c'è preso un duosi che lui non sarà più un grab se fino a quando questi non ragioneranno vabbè ce ne faremo una ragione mi sono fatto ragione tante cose cosa non ci faccio ragione di questo ma dove sei il duomo mauro come faccio te metti la mappa non mi riesco come non ti riesco cui ho ragione ma anche a me mi fa vedere benissimo ma se io vi vedo io no allora so tipo un segno di spunta sto la ah ok si dice ma guarda me lo trovo me lo vedo ah ecco si ecco si non fate gli handicappati io non vedo ancora niente una v una v ah se il dcv mo lo riconosce un culo qua ci sta un cosone enorme morto veniamo verso te mauro si perchè possiamo andare a fare il dungeon che abbiamo fatto l'altra volta te lo ricordi a paolo scusa io ancora lo trovo sono cercato un po' per serio si te lo giuro ah l'ho trovato ma sono andanissimo vabbè poi viaggia gratis fino al windy glade wayshire che sta dove cazzo l'altro punto di viaggio vicino a me ce ne stanno due ah però se non lo sbloccati non ci può andare e ci viene a piedi a piedi e questo si viaggia a piedi il frociazzo oppure raggiungi 10 mila e compresi un cavallo oppure spendi i soldi e compresi un cavallo fa come ti pare non è vero che cavallo è infuocato è figo si ma costa un botto eh costa 900 corone eh hai visto quando ci vuole per 500 corone costa 12 euro ci paghi un mese 500 ah ci paghi il gioco eh lo vedo sto io che ci sta da meno a me mi stai facendo nuovo il caricamento è un aspettato caricamento lungo cazzo Paolo c'hai la connessione peggiori quella di Mark ma chi anno lo vedo fin oggi? eh Mark Tacconer che si sentiva la voce mentre eh ci stava lo streaming e poi credo Gammo Gammo Francesca no no eh Antonio stava a casa cazzo ma l'anno passo non riusciamo a fare gioia a brasiliana? sì sì senza problemi almeno alziamo la figa generazione ovancholta oh oolo questo è lo però è ok 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 Mauro non ti muovere da lì se ho un posto della testicazione Ok vabbè Perché mi fa male Cioè Mauro non mi fa male il colo mi fa male Aspetta Il culo ti fa male No la parte della testa è pronta come dirti qua Ma se c'è la testa vuota non ti puoi fare male un cazzo Hai la testa vuota La zona del cervelletto Bravo Paolo Ma se hai la testa vuota come cazzo fa a farti male qualcosa Ma se non so scherzio porca troppa Ah posto troppo alto No Sei morto Dai Paolo come cazzo fai a morire così Ma c'è non ci muoio io Ma ci stanno a scendere qua Stanno a scendere Una missione mi segnava lì Quindi la stavo cercando Non ci ho fatto caso che c'era un bugio Sono arrivato Mauro Stanno arrivando stanno arrivando Stai là vicino alla barca tu Aspetta 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 Intanto mi vedi Sì sta vicino alla barca Eccolo qua Ciao negro Quando è bello nero Quando è bello Cioè scusa Ti sei fatto pure la cresta Quella non Sì No i capelli sono lunghi Ah è vero sono lunghi Stanno a fare il giro Ok aspettiamo Quell'altro finocchio Che non si ammazza Ma se c'è bisogno Di qualche armatura Che cazzo di bello sei Quattro Qualcosa ti diamo Io ho una spada A una mano Se potete interessare Ah ecco Mauro C'è il dubbio Una spada semplice Che toglie 299 di danno O una spada Con danno A 40% di veleno Però toglie 269 Il veleno Perché il 40% Vuol dire che un colpo ogni Un ogni 5 No 2 ogni 5 Quindi è buono C'è una spada a veleno E una a fuoco Contemporaneamente Io non c'ho Ma buon'armatura Perché? Perché sei livello 4 Ah no aspetta Ce l'ho per i piedi Io che c'ho qualcosa Ad alti E a saperlo Ma non No boh Si possono Inizia a craftare Il problema È sempre lo stesso Aspetta E vorrei che forse C'ho qualcosa Da darti Potrebbe essere Un museo Vabbè No Allora Allora All to interact No Porco 2 All to interact Ti volevo dare Ma se volessi Scambiare Col te qualcosa Ci si possa fare I trader No Voglio fare una trade Col te Ti voglio scambiare Della roba Crouch All menu Sono arrivato Oh C'ho A poco Che momento La vita La stamina Dipende Tu vuoi Fai danni Si Allora Se vuoi fare La stamina Perché fai più danni Se invece Vuoi Prendere i colpi Magica Se vuoi fare Le armi magiche Ma Paolo Sei arrivato No Stamina Ecco qua State a frugare Ma come cazzo Si fa Allora Io a PC Lo so come si fanno A scambiare cose Ma qua Aspettate che ci sta Un Sedere sto rumore Croci Quello è Che ci sta Qualche parte Il Vabbè Ma andiamo a questi Proprio di che ci sta Qualche parte L'affare che cascava Sopra Il Che si incaglia Ho capito tutto La prossima volta Non serve Che camminiamo Tutto quanto Basta che vai sulla Gilda Nel giocatore E poi si trova Il sugeia Invece bisogna scoprire Dalla PS3 Dalla PS4 Come cazzo Si fa A fare lo scambio Cioè io ti voglio Dare degli oggetti Come cazzo faccio Dovevo creare la Gilda La Gilda Di livello 10 Possiamo creare Ah eccolo qua Invite to trade Trovato Porco 2 Si però Prova il 2 player Si Allora Tengo premuto Option Per interact Invite to trade Poi Come cazzo Lo fai Ecco Ecco Come hai fatto Come faccio La faccetta La faccetta Aspetta Paolo Oh Me ne va Queste La faccio La prova La prova Di trade Premo option Giusto Allora Come cazzo Faccio Invite to trade A attivarlo Che cazzo si è messi Della schiena Paolo Eh niente E' uno scudolo L'ho tirato Per i sbagli Questo è un altro giocatore Allora Once to trade Option Come cazzo Lo uccide Si Il cazzo Che scatena Siamo Stiamo a fare la prova Ciccimentare Non fa casino Dopo moriamo Si fa niente Ok Aspetta Stiamo a vedere Come cazzo Si fanno gli scambi Allora Paolo Premo Coso Eh Come cazzo Fai poi A premere Invite to trade Perché questa È la stessa cosa Di quando Tieni la freccia In alto Per Gli oggetti Però lì Te l'ho Imposta Perché se mollo Opzione Ah ok Mi è invitato Mi è invitato Ok Accetta Mi è invitato Io ti ho anche invitato All to respond Ah basta che ci sto sopra Ok Basta che ci stai sopra Lasci option E ti fa tradare Ok abbiamo capito Fanculo Andiamo a menare in giro Anete qua Io c'è una corazza Ma non ho visto Che cazzo Di livello Forse La posso Da ciccima Noi dai Io ma noi ti fossero Un po' di cose Non aspetta Perché ti ho fatto Con l'amoro Porca troia Ma se siamo Come rende diverse Ok Allora ti do Da poi che cazzo C'è la staffa Che temi cura Io Sono i guanti Vuoi fare i danni Da lontano Magici Vuoi fare il mago Eh Eh No lo sto provando Ok Perché dipende Da roba che ti possiamo Dare a quello che vuoi fa Volendo ti posso dare Uno scudo Che ti serve Dammi tutto Dammi Non c'è niente Io c'è tutto Il livello Più alto del suo Eh Aspetta Sì Non mi ha accettato Devi lasciare Il tasto opzioni Per accettare E poi ti apri un'altra finestra Quello sì Già ci siamo In quella finestra Ma da quella finestra Non mi fa accettare Quello che mi trova da Paolo Vai prova Vissimi solo Aspetta No Avrei guanti Non le potrei usare Neanche lo scudo Hai accettato No Ah no perché è vero Devi mettere pure tu un qualcosa Ma ti ho tipo 30 di oro No No da chi è uno No ma fa fa Eh ok vai Ha fatto Ok Ok Se mi metti la roba addosso Sai che dobbiamo portarli a papà Il dungeon è quello pubblico che abbiamo fatto altra volta insieme Comunque qua ci sta un'invasione che possiamo fottivando insieme Ferma la cazzo di invasione si chiama Hai visto che cazzo di skill? Oh via qua dai L'ho visto Ho visto visto Vi è qua dai Ah Paolo Il cosiddetto non me lo fa so Devo arrivare a livello 8 e 7 Ok di qua Di qua Ho menata tutto quello che si muove Sì ma dobbiamo andare all'altra parte Paolo Non qua Ah ok Di qua segua a me Qua tra un po' ti dovrebbe attivare La quest Qua davanti Mena a Tizio Cario Sembronio Dice rispingi l'invasione E qua ci sta una quest Bravo Pilla quella Ma le due ne sono due Pilla tutte e due Pilla tutto Una e respingi Sai il cazzo di cosa che devi respingere Qui Questo qua è legionale che sta partendo Distrutte Del mormon Ah no Ok solo questa Che dici Dobbiamo fare Tipo Si chiama Distruptive Mormon Invasion No The Serpent's Bacon Ah ok va bene Quella è quella Quindi era quell'altro Sì Via qua Andiamo qua Ma andiamo a chiunque Ok Lo porto qui Sì io sto modalità DPS Non so Pertanga Aspetta che questo è No L'italmo lo lascio qua per terra Ah guarda come va bene Sento che cicciometà è andato a beccarne due Siccome si sente figo Sì l'ho pure ucciso forse No Sono morto quasi 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 Dai che devo riempire Ah Ok di qua Poi ci viene da di qua E la ragazza è da grado un altro Eh No possiamo andare possiamo andare Ok Ucciso Ucciso Io direi di uscita qua e andare a fare il dungeon pubblico con ciccio maitai così facciamo casciare Oh Ho trovato una spagona Io ho trovato una spagona Sì poi dobbiamo andare Non lo metto Qui c'è qualcosa da leggere Sì Sì Quelli sono fondamentali Leggere Oh Qui sopra c'è un punto di vista E si immaginate tu Ah qua dentro è la missione Forse sai O ci vengo a guardare Ah sì è qua la tipa Abbiamo a recuperarti 3 e 4 No sicuro Sì Sì uno l'ho visto Nesta per lì Ragazzi Voglio fare questa questa missione Eh facciamo quella al volo Visto che stiamo già qua Vediamo Poi andiamo a fare il dungeon Perché ci sta un dungeon pubblico e un'altra missione Hai viste quelle con i teschi Quelle sono missioni che poi fa Solo in gruppo Pulo Ma è la noia che stai a fare le pippe Ci darci una mano Dove stai? Aspetta Arrivo Si è sentito altri due dietro Emanuele Chi ha dato fuoco? Io Ok Liberiamo stati due stronzi E poi da un'altra parte No Non è più due Che sarà indorno Eccola qua Nell'ultimo L'ora È dietro Che veniamo a questa? Stava qua Stava solo ti stava da fastidio così ho trovato un'armatura oh sono salito anche di livello ok allora darà un attimo punto diamo un altro punto alla stamina ok via prende questo infatti io butto la merda come si trova l'assegnamento di un oggetto di una spell è una roba complicata da fare al volo così praticamente devi andare sopra all'oggetto e cambi ripetutamente oh andiamo almeno da qualche parte oh ci spostiamo almeno cioè che c'è più senso e va dire al cazzo non c'è nessun senso che stiamo qua c'è lui non ci livella dobbiamo andare a parlare col capitano ma lo possiamo fare dopo andiamo a fare questo con Emanuele via qualunque la spiaggia poi ce la possiamo finire da soli vedi qua allora praticamente aspetta mettiti qua dove sto io che ci sta premi opzione vai su skills hai visto che in alto se tu arrivi sulla tua espelle e premi in alto ti va direttamente sul quadrato il triangolo ecco se ci premi sopra ti fa vedere quello che hai e che puoi cambiare eh ma non me la togli cioè L1 io gli ho detto quello che sta su L1 ma non me la fa togli come no? no mi fa solo vedere mi fa segnare eh assegna un'altra ah ok ok che cazzo stai a fare Emanuele? niente stai aspettando un parte a metterarmi a posto premi a sinistra quello per muoversi a sinistra e ti rimetterai dietro non quello quello non l'analogico si non muove non l'analogico ah ok non ho capito perché non muovo ma anche quello no lo sapevo che stavo cazzagione eh ferma di cerci perché almeno cazzo cuore sembra che c'è una malattia che non riesce sta fermo colpo due con quest'altro guarda quanto cazzo sei ignorante la visita guarda 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 è così guarda è così vuol fare è schifo ok dopo questo esempio di bruttura andiamo a fare questa per voi ah la via andai sta a leggere sembri un cazzo di secchione allora e mi ducharò vedendo quelle due 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 dimostire cosa cosa va bene vediamo ma non è che palmo ci raggiunge lo fa scarpiato lungo la costa allora questo che fa con il bambino mi riposo si riuscì a farsi le pippe con le quere allora ho evo come una cosa che 112 di danno da fuoco ogni secondo che il nemico ci sia addosso vicino oppure il mio corpo diventa tutto di lava e il danno aumenta il 3 per cento e la salute massima non evoca un cazzo che di solito la roba che evochi fa casino no no non è che evoca il mio corpo diventa di lava poi mi so che mi tengo l'altro si si noi stiamo andando verso il posto che fa la quest ok in mezzo a quell'isola rompi coglioni ma non le doveste averci una questi punteschio che dovrebbe essere nero perché ancora l'hai fatto ok ma la forza west si questa si può fare solo in gruppo i teschi di asole non li vuoi fa però mostriamo in due tu me ne ha quella tizia che sta a folla e a questo mi li vedo io c'è un'arma che fa bene c'è un'arma che fa bene e lo so se pulire il livello pena armaggio magno ma che cazzo faccio quando a morire no no cazzo vado no cazzo sei morto dai rievoca di qua guai shine così l'angelo si aspetta ok tre fortesi è perciò si bisogna farli in gruppo andiamo arrivando dove sei mamma sto al corso sto arrivando aspetta adesso prima si aspetta che stavi i testi e quelli con che sembra un gruppo però questi una volta fatti non li puoi fare mentre quella non è chiese nero perché non gli ha caccato la il caricamento della delle skin poi sono morto due volte uno aspettatemi cazzo no che vengono già attacca perché parla un mongolo schiattate ritornate arrivato non già attaccare tutti perché sei un down muo vengo io mi metto l'arma pecula e poi menate l'unico che risuscita gratis fino a livello 5 se tu da livello 5 in poi da pigli in culo sono più scasso la scuola e più scasso di pieno peccone allora io sono arrivato ma aspettiamo paolo ne fa il tempo cambio paolo lo vedi arrivi comincia a menare la genna cazzo allora non menava il pezzo ho attaccato il primo che ho trovato era il boss spai che mi metto la l'arma per curare però ci aspettiamo che mi metto l'arma pecula il ragazzo soffregna che bello il mio nero no che ho un nero ci vuole c'hai ragione tu un nero di squadra ci vuole però eh ma è cattivissimo guarda in faccia livello ancora 4 sai tu livello 7 ma questo abbiamo deciso che li giochiamo solo quando stiamo insieme e poi non ce li facciamo un altro per giocarlo a cazzo quando non ci sono gli altri ma Mark già sei fatti il personaggio cazzo ne so io non so neanche il fine ha fatto Mark ogni tanto pubblica ma chi cazzo l'ha mai visto è un balsardo che mi doveva dal nome di uno che è passato dal mare e mica me l'ha dato che è omosessuale pure Paolo che froce ha detto che era bella ok ci siamo no questo salti due stronzi che muoiono giusto probabilmente si non possiamo farci questi però è che vi curo perché è sciattato? non lo so mi ha dato solo un cazzotto e sono sciattato si sta qua vicino ok sono arrivato Paolo via e suscita vai allora io ora ti posso curare però mi devi stare vicino aspettate un secondo un secondo ho una spada che non posso usare comunque ma ora è meglio la spada o il martello che si usa? la spada due mani e il martello dipende dai danni che fanno 198 la spada e 204 il martello 204 il martello tiene il martello pare ovvio altra mano allo scudo ok posso andare ok abbiamo aspettato che risponda io ho un libro qua dove? ah mi sa che l'ho già preso qui ah no non l'avevo preso questo quando il teschio diventa bianco vuol dire che l'avete fatto? se no andiamo più a nord dopo 3 2 1 se non arriva anzi va a nord andiamo dai raga andiamoci dal cazzo e stiamo aspettando andiamo al dungeon quello all'aperto qua cazzo e stiamo aspettando qua ancora Tom Mullis si si eh se la tipa non risponda non possiamo anche la staffa i funghi qua è passato qualcuno perché vedo i morti due due orsi morti io con l'argoniano mi sono messo a livellare ammazzando orsi che respanavano e li ammazzavano sono seguito ai due livelli e così guarda io ho fatto livellato con quell'altro praticamente senza questi problemi non ho mai dovuto grindare aspettiamo se c'è un metà ecco il poveraccio è arrivato andiamo tu c'hai le quest qua prendile prendile ok 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 aspetta paolo non li carica male skin porco due o è ancora nero si è brutto nero almeno vai il volume eh ma beh dici quando hai preso le quest hai preso? si ok andiamo dentro aspetta paolo non ti andai per i cazzi tu no sono davanti ah non mi ricordavo se c'è ma te ecco mi ricordo che sono morti eh se c'è ma te non ha preso ma te non ho la specie per curare io ma se c'è ma te non prende le quest stiamo a parlare il cazzo ma ho parlato come andiamo ah ok andiamo non li porto qui raga arrivo ecco ci siete? ci siamo dai ok no c'è brutto l'altro dove è l'altro? dove è andato? ecco ah tocca sempre a curarti sei un gollions no vabbè e dove hai in tempo? oh no no vabbè 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 no apolo dopo sei schiatti porco 2 si sono scarsi se stai on down arrivano le cure io l'ho presa ok tanto non è mai ammazzare tizio cario sembroni entra esce dalla stessa porta che cazzo stiamo io non c'è manco un viaggio già andiamo di qua non c'è manco proprio a sbloccare quello giusto? no esce per via attenzione c'è uno dietro no ammazzato no sta arrivando credo che sia a limite dell'agglo l'ho disarmata ok continuiamo a menare impugnamenti a chiunque a chiunque ok 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 questa quest aspetta aspetta famosa via si pronte da andare sono andando e aspetta sembra del c perché sono un delicolo appunto per quello che abbiamo detto di aspettare a sto gioco devi aspettare se no muori con due vediamo se funziona qua no per fortuna che di livello cazzo lui e risuscita qua ecco perché a questo gioco si aspetta cioè pure con una tenaglia alti aspetta ok abbiamo paolo sta in zona quando devi andare qui dentro dove ne l'agna dove si chiama noi segui a me aspetta a voi bravo aspettaci cioè eccoli aspetta soprattutto le cure aspetta a o o Sì! Tocai un mondo davanti. Va diventare a riparare con Pauly. E che stai uscendo? Ehi, ehi. Voglio uscire. Ma devi fare questo quando cazzo sei imbedito. Non fa a te. Ok, vabbè. Ma non credo. Ma non... Qui devo rientrare. Di dentro. Beh, sì, ma ci hai fatto uscire. Adesso è entrato. Dissi che giù più, vale bene. Ah, c'è questa falla dentro. Ci abbiamo portato apposta così non schiatti al nastro. Mi sta a fare la goccia. Che stai a fa? Ti sei detto prima di usciare là? No. No. Vabbè. No. 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 Come. Giugno, sei semplice da... Emanuele, non te ne andai che schiatti. Aspettaci. E non ci fa usare la stamina per correrti appresso. Io c'ho un bastone da mago che fa danni di elettricità. No, a me quelli massimo, quelli a Restoration. Andiamo secondo me a gioco. Lo so, ma non ce n'ho manco una, Paolo, lo vuoi capire? Vuoi una foto? Allora, sai che possiamo fare, Paolo? Usciamo, andiamo a fare... ...vese hai rispondato il teschio? Non c'ho manco una questa, Paolo. Andiamo a vedere rispondato il teschio. Che cosa andai, Paolo? Oh, sto mirando, sto mirando, Iron Ore. Che cazzo, come... che c***o, Paolo? Fa un culo, esci. Io non ho trovato ancora l'Iron Ore sulla versione PS4 e l'ho cercato per ora. Ho trovato un'altra versione todasie cose che ha riuscito a fare. E' questa a�? No, non c'è un problema, non c'è un problema. È un problema. ...desso io non ho trovato un problema. Grazie. Da chi è che fa testi versi? Ah, ma si. Ma non mi fa male più il collo. Eh, troppe pippe. Non mi piace mai, mi piace mai la parte... Queste, dietro la coccia sotto. Del cervelletto si chiama. Bravo, la vicino. A sinistra il cervelletto. Oh, ma hai iniziato a lavorare, brutto gay? Si. Come sta andando? Male. Molto male. Ok, ci sta. Ok, io sono giusto. Sento caldo. La mattina fa troppo caldo, ma ora. Vai, aggra. Prega aggra tole altre. Nooo. Oddio. Ce ne due. Perché hai aggrato pure Gesù Cristo la Madonna. Solo quello è aggrato. No, sei passato vicino perché sei down. E ora siamo morti tutti. Sei passato vicino a quello... A quei quattro che stavano là vicino. Qua c'è l'aggro, se li passi vicino ti vengono addosso. Ma lui si chiama Paolo? Eh. Non siete morti voi? Sì. Tu rimani là che c'hai il fatto che non nello schiatti. Andiamo Paolo dai. Sì. 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 Ma si uccide facile se Paolo non aggra il cazzo che gli frega. Mi non aggra. Io stavo attaccando quella e poi... No. Gli sei passato addosso. Quindi dai aggrati. Come cazzo prendetevi di fare? Gli sei passato praticamente sopra. Di fianco a quello lo aggri qua? Eh. Si è girata, sì. Andiamo. Oh, aiuta, aiuta, aiuta. Nooo. Nooo. Aspetta a noi. Vai, ci uccide. C'è l'armata, solo due e tre. Ah, ho trovato l'Aeronore. Mi sono fatto uccidere, no? Bene. No. Finalmente ho trovato l'Aeronore. Un attimo di soddisfazione. Ok. Mo' prendiamo prima il gruppetto qua, Paolo. Prima il gruppetto qua. Il gruppetto qua davanti a me. Pulisci solo il gruppetto. Fai, fai che sei mezzo morto. Ok. Posso solo... Ferma, Paolo, Fè, Fè. Devo recuperare... Per curarvi. Aspetta. Fatemi recuperare il mana per curarvi. Ok. Ma lui si è preso l'altro gruppetto là. Dategli la mano. La tizia non ci si sta. Speriamo che risponda su. Speriamo che risponda su. Speriamo che... Speriamo che risponda su. Speriamo che risponda su. Era questa qua. No. Vedi... Fatevi questi tre. Tiro? Vai vai. C'è un'altra qua. Che Ce l'avete ancora nero il teschio? Io non ce l'ho. Metti la mappa. ok mi aspettare rispondare allora e mezzo ma la mappa di merda aspettiamo qua a me bianco il tesi perché lui non essendo morto è venuto qui ci sarà un gruppo per un gran che ha fatto che lo facciamo per poi perché avrò solo per il gioco e se chiede più forte ora no come al solito a culo e più forte basta tende la fa cosa no che cazzo preso no 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 rinasci a prescindere il fatto che tu no 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 è già in te ballo, non si vuoi Vedi un po' a palo? Sì, me l'ha fatto. Ok, guardiamoci dal cazzo d'acqua che non la voglio ribeccare di nuovo. Andiamoci che vedo tutto quello che mi amante. Vediamoci che vi rompe. Sì, ma perché ridare le cose che non posso usare? Perché siamo a un posto di un altro livello più alto, allora adesso vi rimetto però il mazzettone. Vediamo a livello 5 almeno, Mauro. C'è un po' di cose a livello 5 da usare. Vediamo a livello 5 anche perché a livello 5 si inizia a schiattare come noi. Ok. Ok, andiamo a fare la nostra request. Qual è il livello massimo? Fai 50 livelli, poi iniziano i livelli veteran. Fai il veteran 1, vedrò 2 e vai avanti. Sono 10 livelli. Sì, arriva 90, poi fai... Sì, più o meno dovrebbe essere così. A che livello stai il computer? A che livello stai il tuo computer? Eh, credo ho fatto 25, una cosa del genere. Poi ho mollato perché sennò vedevo le stesse cose che vedevo qua e mi non bevi paglione. Bravo Paolo. Vado due tre pezzi neri. Ma andò sott'acqua. No. Niente sott'acqua questo gioco. Che cazzo di culo Paolo. Ah Paolo, vai che c'è il gran che gli ammazzi. Mi ha parlato con il capitano. Che hai visto? Ah, la runa. E nuotiamo anche malissimo, tra le altre cose. Io sono nera, sobra, non ne ho notato. Ho un ben gioco. No, di più a raccogliere le cose. Ah, proprio devo entrare in Tritano. Quei dei due primo, quello su? Stiamo a fare quello sopra. Oh, altra ironora. Ah, aspetta. Bravo, poi lo minano, prima che lo mina quello... Ci è rimasto malissimo il tizio qua sopra. Hai credo che l'ho minato da sotto. Sì, lo tuoi di merda ha fatto. Ok, tanto qua è importante che lo piglio a uno. Bravo, si legge. Che fase di livelli, le letture. Che cosa è la cosa? Ho dieci aeronave, tre pezzi. Oh, altro aeronave. Si è uno sculato, Paolo. Ok, lo so che c'è intorno all'isola, ci verrò più spesso a mina. Che cazzo giri di qua? Io penso che sarei dove cazzo stavamo andando. Qua, Paolo, sull'altra isola. Aspetta, c'è due nemici che vengono attaccati. Sopra la nave dobbiamo andare. Sì, sì. Sì. No, tevi sono in stand-by, no. Deve prendere a Kevin, non puoi andare stand-by. Oh, hai rumore. Oddio, oggi, se non fa niente, a un'ora ha scritto Aldo sul gruppo coach, cose serie, là, e ha scritto Daniele Mancini che è il club Puglia contro, che spero ha fatto? Di Petroska, sono due l'ander. E Aldo gli ha scritto, è stata colpa dei coach. No, non ha scritto, è proprio accetto. Spiega, è legge. Ha detto che quest'anno la colpa è stata sua, è che secondo me... No, Paolo, un'altra cosa, visto che c'è un cazzo? Se abbiamo lungo la sua strada, non la posso aiutare si dettano. Tomatino, non la posso passare. Io dico un'altra cosa, Paolo, quando dopo gli ha scritto Mark Tarkone che ci faceva una striscia lunga? Ah, però hanno allenato riscarsi, sì. Eh, ha scritto che il club Puglia e quelle di Petrans hanno allenato riscarsi. Ah, lui di scarsità se ne intende sicuramente. E poi l'ho scritto Mark Tarkone e comunque c'è c'è una il culo anche a noi. Sì, senza nemmeno sta dubita. Ma ragazzi non è il coach Mauro. Sì, col cazzo. Quello, ma hanno scritto Mark Tarkone e quello oggi ha detto Antonio Scascia, ma lo uccidi. Guardi, ha bestemmiato. E' in delle mie cellule, gli hai scritto lo ma Antonio? No, sì, ma l'ho mandato, l'abbiamo preso per il culo Federica con un messaggio vocale. Eh, ma aveva già bestemmiato. Quale è il culo? Che sembri che Baldero gli ha scritto a Marnucci se ci manca 4.000 euro di vuoto non è colpa loro. Si è più o meno poi c'è un scascio l'uscito dal gruppo. E' come quando gli fa notare che apri la bocca senza... Ah, c'è un unico. Io pure sto. Altro libro. Mi piacciono i libri. Ci sono i libri... Aspetta, ma di merda. Odio quando devo buttare le robe dei... Ah, mi sape se il pane e il formaggio. C'è stato? Ora mi pare come quindi. Ma se very close come troppo corso portale. Odio, d'books Comme d'Arhon, d'rò... Ci sono due user detSi saranno due nemici cuor. Aspettate... Tengo da tutto, Norma. Sì perché ombro il capito a noi. Con la stanza fa fuori. Tu cazzo sta? Paolo L'arrao... E' fuori Fuori sulla nave? No, sta sull'isola dove stavamo prima Dice, parla col camminato e me lo dava qua sopra No, non sta andando Porco due, fammi che andava Ho visto andando io quando la stava facendo Libro Bravo, e leggi tutti i libri Apri tutte le biblioteche Io spero che Mark stia scopando No, eh Però dove è che Mi stiamo ammettando qui Per niente assicuro Sto a basero posso capire io Dobbiamo andare a pagare l'armi Un 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 la visione di amico se stavigli se bravo come michael sarchio nel mio gioco di sport è bravissimo non poter incontrare è livellato al 10 ho livellato io allora due livelli e faccio la gilda micro micro sel si chiama forse sarà qua dentro ecco usa la luna ok si va dentro ma te lo sto cercando un giorno ma paolo entra su apri tutto un foglio qua da legge bravo bravo è sempre tutto ma 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 stanno vedete distrutto usate le porte scuola aspetta definita definiscono e tutta la ecco qua via cosa usare non mi fa entrare us teleporter scuola usato la scuola di teleporter a me aspetta prima di completare questo butta qualcosa orco2 eh ma beh che dove lo disse eh perché non si è questo come divendere e che n'è che devo uscire no se non c'è lo scroll tifoso scroll ma io a mauro di prenderla sopra io è arrivato la sopra sto la sopra ok vieni paolo risale è no meno più tempo che per sotto si vengono finita io faccio di fuori guarda dove sto non lo so mi sono arrivato esci fuori sto fuori dove stare al vero rossa stanno picchiando aspetta aspettate no barrivo aspetta a paolo vai dove sta ma sta dicendo sotto proprio no sto fuori alla porta e ci fa il giro della casa ma il giro il giro il giro dove quando passi qui sotto ci sta un albero con le foglie rosse in direzione della barca ma non ci sta avvicinati dalla nostra volta verso la barca vieni dove caccia di a paolo sare tutt'altro lato al lato opposto di quello al lato opposto di quello bravo paolo così gira 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 paolo gila di là versi la unico gira paolo gira 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 bravo guarda verso sopra ti vedo ora verso sopra c'è un nemico vaffanculo paolo guarda verso sopra vieni quando sono sexy sembra te due rincoglioniti anzi senza che ci sembra ci siete sopra finestre ci sono quando sono i due rincoglioniti anzi quando sono i due ragazzi sono finito cadete da sopra dai veloci questo è andato sotto dal capitano ecco questo è risolto di sopra va bene mauro dai che c'è no 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 aiutai è morto ecco no 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 senta 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 entro 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 vieni fa me entra fa me entra fa me entra fa me entra fa me perché non mi fai entra mo compri la sua moglie ok mo possiamo punta dire tende al nord che io qua ho finito tutto ah quindi andava entrando? non so se l'hai presa sulla quest io non c'è più nessuna quest ok allora ci riusciamo andando ma che cazzo vuoi tu mi hai rotto il gioco? ti cazzo vuoi tu mi hai rotto? chi dove cazzo sei guarda dove cazzo sta ancora là su lui andiamo a riacchiappare ma chi sei calato voi cioè stavamo andando pensavano stavano dietro di noi ma che problema c'è mi butto si e poi schiatti ma che schiattro guarda li sono calato io sono calato mauro ok andiamo annorbissimo dungeon del banish di chiles dove state rientrano a prenderli aspetta la sua mappa spero che l'ho visto visto ma riservi ma completamente al nord c'è un baggio o perché non sanno di livello col catroni devi fare questo come se il livello sto facendo hai visto quel baggio io una questione un attimo facciamo la macchina livello livello ecco adesso inizia a schiattare come noi qua la paolo completamente al nord c'è quella specie di le banish di chiles ah beh sì ma ce ne vogliono quattro per fa quello che cos'è la boe l'arca giusto il numero minimo quale so quattro mi sono forti stanno tutti a livello 10 ci sono ci hanno come hanno fatto quello il minimo livello è 10 dai usciamo da qua certo aspetta quel coglione di giulio ancora di rispondo bravo non ho messo a mettere cose a posto vai dove state vedete verso nord come cazzo arrivate già là correndo vedete con dire in questa cingi schiava stale eccolo qua stale che è amato questa ragazza ma Mauro non penso Matt che sta a parlare con qualcuno però no Matt ok ritrovato Paolo Matt sta sentendo qualcuno eh sì Matt che è iniziato a parlare con chi lì di Milano ah quella è arrivata l'estate e poi perdonato ho detto chi è ma io lo metto e io mi dico ah come è che c'è le scarpe se non ho i nomi di chi lì e tu stai assoluto no no sto qua a aspettarvi io sono qua io sono qua ah stiamo di lassù cazzo è a nord aspetta aspetta che arrivo io lascio il trasporto quello che compra il cavallo il cavallo si compra con i soldi o con i soldi veri eh 12.000 spero come faccio l'unica lì quando c'è no nell'inventario ma comunque si fanno intorno a livello 20 ce l'ha i soldi verrà eccovi arrivo oh uff uff eccomi arrivo ok, verso dove andiamo? allora andiamo verso Skywatch andiamo a sbloccare Skywatch in una nuova strada dove lo soffidiamo Skywatch dove cazzo sta? qui ci sta allora, io sto a guardare la mappa vuoi andare verso il mare? c'è un isolotto allora, vai verso destra c'è il mare, c'è un isolotto dopo quell'isolotto c'è Skywatch che è una città imprendita oh, andiamo ah, sì, che c'è una quest io per strada anzi, due io ce ne ho una per strada vabbè, andiamo, vai mi dà una macchina dice la strada che sono viola? sì, che sono gli ectoplasmi io ce l'uccido e voi? se lo si vede con l'arma quale? la catena? sì, ne freghi qua di sto cì no, viene di vista dal gruppo ma l'avete preso il punto di viaggio qua vicino? vabbè? io non ho aspettato prima di far casino la vede con me ma quello di tangere guida dice eh sì, io l'ho preso allora farlo pure pure la mia madre e poi li spostiamo ovviamente qua dove sto io capire il suo punto di viaggio e poi andiamo al nord ah, qua, lì sono fatte no, pure io voglio provare un'altra cosa ah, qua aspetta ho detto 10.000 oh, il lopardo oh, il coso quelli lo parlo solo con i soldi veri scompro ah ah occhio, poi se non lo guardo lo vedi nel cron store vabbè, venite che sei qui, ma guarda, non ti dico aspetta che cosa 900 crown ma ecco ok, ho detto di qua così cicciomate prende il cazzo di shrine questo è un po' un bordo con uno livello 8 è fatto a botte sei un coglione chi mi sente superiore ah, sì invece vedi che non sai giocare ma noi lo sapevamo che questo un gioco avrebbe rivelato la tua scarsità aspettavamo qua che ci sono io sono forte a giochi di sport, ragazzi sì siccome siccome non sei forte negli sport ok cosa resta no, lo so avremmo rotto il cazzo a qualche quest di qualcuno veniamo a sti due va la sperta e cura funziona anche senza il bastone col mazzettone frocio di un cicciomaitai prendi il punto di viaggio aspetta che lo vedo lo vedo, lo vedo, lo vedo lo osservo ok ok uno di qua verso no, prima di use, giusto? no devi solo passarci vicino ah, no aspetta che ce lo siamo ripersi aspettiamo il negro andiamo andiamo un po' è stata la destinazione Paolo, c'è uno dietro ok dai un po' di culo paolo ma c'è una via scusate che non si passa da qui ah, sì, si passa no non si passa aspetta sotto qua ci stanno una questa ci stava questa qua sotto io ho già fatto aspetta che no ok io qui vicino c'è una questa io pure c'è una qua pigliala dai che la facciamo aspetta dai guarda non ho dritto vedo dritto così eccola parti con mazzio l'h non la picchia non la picchia perché poi ti inizio a ricercare ti ammazzi e non ci davanti qui c'è anche un altro presa io a questo giù ma come sti che mi ha scritto you are now tors perché adesso perché è venata una guardia cui ho ti ho detto voglio ammenargli ma non puoi entra più in città perché è venata una guardia o per sempre no per un tot di tempo questo è il canseggio è il canseggio che regola è che non puoi nelle guardie no di poi mena diventi un bandito e poi entrare solo nei posti dei bandini bellissimo tipo gt5 ci sta online anti sportivo amoro dove sei tu sotto amore a vedere delle cose ah io sto sotto infatti che praticamente ogni di se giù anche a gente con anti sportivo mi sono morto a giù a quello quando vende anti sportivo amore c'è la gente che ti aspetta fuori casa con il buzzard un libro ok ok ah guarda la mia agenda io sto sotto la campagna questa io pure figlio è ancora a livello 4 cazzo sono è un'altra qua vero aspetta città non ok mi sapevo il culo 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 questa qua si cosa si accorto che sei un nob de merda e ti deve per il culo si può io lo farei ok me ne manca solo ecco ah no di là allora faccio prima fagiolo da sotto collezza l'ho e del se nembro halloween vuol dire permesso non ho capito la parola che ho usato prima è un oggetto da sono due giocatore poi vedete prima che si raccoglie a mano a unico se lo so che non la chiapa uno 1, 2 2, 3 2, 3 3 4 4 5 5 7 8 8 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 16 18 15 15 15 16 16 17 17 15 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 16 16 15 Non è colpa nostra Ah, guarda, dove lo creo? Ah, comunque è finita la pasta Sì, la bocca è tutti i coglioni, ma... Comunque, anche a livello 5 per far nascere, non muoio Allora, quando sali di livello, è il problema Allora, se ancora a livello, nob Siamo a fermare queste Sono in quella città che sono ricercate, sì? No, in tutte le grandi città I citti non sono filmato Due helping come solo No, non è là cose cream No è consenso Chiamo qui Come poi portà Allora, non si rendiamo Viメo La Non le Ok 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 ha scritto di nuovo you are now notorious e non sai giocare ma senti una cosa che ha scritto ho capito io sto per uscire perché sarà una certa io andrei anche a lavorare senza misa tu hai lunedì eccomi qua sono uscito eccomi qua no qui non mi dovrebbe attaccare a un cazzo di nessuno quindi rimarrei qui oh gente io li saluto eccomi qua